beh uno dei modi per stare in casa in questi giorni è trattarsi bene ci meritiamo una coccola ragazzi e facciamolo subito sin dal mattino presto imbandiamo un bel tavolo per la prima colazione da condividere con il nostro partner con la nostra famiglia i bambini scusate sotto rossini e il turco d'italia in realtà adesso in italia abbiamo qualcun altro ma in realtà mi mette allegria rossini mi fa sognare mi fa sorridere quindi la musica anche quella importante veniamo alla nostra tavola la tazza da caffè latte nel mio caso da protagonista bella grande ampia che attende il caffè che arriva bello caldo bollente latti di avena nella sua lattiera cereali farro avena frutta disritratata frutta secca ne mangio tantissima e anche frutta fresca frago di mirtilli che non possono mancare mai tutte le mattine fanno bene non voglio fare la lambertucci della situazione ma fa bene alla dieta così come lo yogurt greco che addolcisco eventualmente col miele se mi va o con della confettura se ho ancora un po di spazio una fetta biscottata rigorosamente integrale utilizzerò questo coltello che vedete posizionato in senso verticale e per finire spremutina di agrumi fresca quindi in questo caso avevo un limone e delle arance che ho mescolato arriva il caffè come vi ho detto e manca lo zucchero che è vietato non utilizzo lo zucchero piuttosto come vi dicevo del miele vedete quanti cucchiaini ci sono beh impariamo a distinguerli venite con me una piccola curiosità quanti ce ne sono beh ben sei qui ma ce ne sono in realtà molti di più insieme insieme impareremo a distinguerli